...e due punti in classifica, hanno in comune due organici completamente rinnovati, due moduli in prima linea, Corrado Grabbi... ...davvero molto onorevole, alla fine è stato costretto ad andare via, non avrebbe avuto spazio nel Torino. L'anno scorso è stato frenato anche dalla Pubalgia che gli ha fatto saltare il ritiro, tre presenze in A con la Reggiana all'inizio della scorsa stagione, poi al Vicenza. E quest'anno ha fatto la stessa cosa, dopo aver svolto la preparazione con una squadra, il Torino è passato ad un'altra. In questo caso la Lucchese. Seguiamo adesso l'attacco di Lorenzo. Il cross di Lorenzo, ora una volta ottimamente piazzata sui palloni alti la difesa della squadra in maglia bianca, mentre Bellini si è fatto male nel contrasto con Rastelli. Riparte Lorenzo. Catelli. Sclosa. Prova, sclosa a mettere in aria un colpo di testa da dimenticare di Pino Lorenzo, termina sul fondo. Nulla di fatto in questa azione che pure era stata veloce, sclosa aveva visto bene il suo compagno scattare. Sull'invito però ha colpito, mandando fuori Lorenzo. Inquadrato Bruno Bolchi. Ricordiamo, nato a Milano ma praticamente pistoiese di adozione, visto che risiede a Pieve di Nievole. Un vero e proprio mago di promozioni dalla Serie B alla Serie A. Ne ha conquistate tre con il Bari, con il Cesena e con il Lecce. Ancora Catelli. Stanno per cominciare gli ultimi dieci minuti della partita e il punteggio è sempre di 0 a 0 tra pistoiese e lucchese. Bettarini. Ormai Rastelli è rimasto davvero solo nel deserto. Ogni tanto sale a dargli una mano suppa, ma deve vedersela con i difensori della pistoiese da solo. Catelli. Sglosa. Ancora Catelli che apre dall'altra parte verso Bellini. Prova ancora un lancio il capitano. In area di rigore la girata e l'intervento che provoca il calcio di rigore. Stavolta non ci sono dubbi. Calcio di rigore per fallo su Montrone. La pistoiese ha la possibilità di portarsi in vantaggio. Stiamo per rivedere sicuramente questo intervento, ma ad occhio nudo non abbiamo avuto nessun dubbio sulla cravatta ai danni di Montrone. La rivediamo. Eccola qui. Non ci sono dubbi. L'intervento falloso da parte del numero 13 Cardone su Montrone. Provoca il calcio di rigore che può sbloccare la situazione in favore della pistoiese. Proteste anche blande da parte dei difensori in maglia bianca. Non abbiamo avuto dubbi noi, non li ha avuti Rodomonti che avrà pure sbagliato all'inizio la valutazione sulla munizione in casa pistoiese. Ma è stato sempre vicino all'azione. E anche in questa circostanza non ha avuto dubbi e ha fischiato il calcio di rigore. Fallo di Cardone su Montrone. Calcio di rigore che sta per battere Fabrizio Catelli. E può essere la rete dell'1-0 in favore della pistoiese. Mancano 9 minuti alla fine della partita. Eccolo pronto Catelli. Parte Catelli. Il tiro e la palla in rete. Un destro davvero imprendibile per Scalabrelli. La pistoiese è passata in vantaggio. Il gol di Fabrizio Catelli sul calcio di rigore. Rigore sacrosanto. E avete visto l'espressione desolata di Silvano Scalabrelli. Gol di Catelli dunque pistoiese in vantaggio. Al trentasettesimo minuto del secondo tempo. E qui viene spiegata da questa ripressa dietro la porta la disperazione di Scalabrelli che arriva ad intuire l'angolo di battuta. Arriva a sfiorare il pallone con il braccio destro ma non può impedire il gol con cui Fabrizio Catelli porta in vantaggio la pistoiese. E' andato a festeggiarlo sotto la curva mentre la lucchese deve effettuare un cambio. Se ne accorge Rodomonti e fa interrompere il gioco. E' pronto Pistella ad entrare in campo al posto di Suppa. Esce il numero 21 Suppa e quindi completa le tre possibili sostituzioni la lucchese. giocando il tutto per tutto dentro la punta Pistella al posto di Suppa. Questo cambio avviene per gli ultimi otto minuti della partita e subito dopo che la pistoiese si è portata in vantaggio con il rigore trasformato da Fabrizio Catelli. Rigore davvero ineccepibile per quella che in gergo si chiama una cramatta di Cardone ai danni di Montrone. 1-0 dunque per la pistoiese imbattibilità interrotta. esattamente dopo 326 minuti per Silvano Scalabrelli portiere della lucchese che aveva subito in precedenza solo un gol alla prima giornata su azione. Lo aveva segnato Cossato del Chievo al venticinquesimo. Ancora possibilità del contropiede per Lorenzo. E palla dentro c'è la possibilità del 2-0. Una stupenda respinta sul tiro. E poi ancora Lorenzo che va alla conclusione respinta ancora una volta da Russo. una grande opportunità per la pistoiese che è andata vicinissima al raddoppio. Stavolta è stato bravissimo Lorenzo ad aprire dall'altra parte dove era scattato Fiori che ha avuto sul piede il pallone del 2-0. Un ottimo invito da parte di Lorenzo. Fiori è filato. Rivediamo la parata di piede di Scalabrelli. che aveva compiuto un mezzo miracolo anche sul calcio di rigore di Catelli intuendo l'angolo di tiro ma non ha potuto porsi. Adesso Rastelli prova a mandare in mezzo ancora un tentativo di conclusione con palla che sibila pericolosamente nell'area di rigore della squadra di Pistoia e termina sul fondo. Momenti concitati ma pubblico già in giubilo per questo gol realizzato sul calcio di rigore da Catelli al trentasettesimo del secondo tempo. Il rigore lo ripetiamo ancora fischiato per un fallo di Cardone su Montrone. C'era difesa bene la Lucchese che probabilmente recriminerà a lungo sull'espulsione di Mignani. Lorenzo intanto che mette dall'altra parte e c'è il 2-0 ha segnato Montrone. 2-0 ha segnato Montrone che va a coronare così una partita molto importante sul piano del sacrificio della disciplina tattica. E sono giusti i festeggiamenti anche per Pino Lorenzo protagonista di un assist al bacio per Montrone e per il gol del 2-0. Rivediamo la parte finale dell'azione. Montrone realizza con gran classe la rete del 2-0 anticipando di piatto al massimo la conclusione toccando veramente di classe sull'uscita di Scalabrelli. Ecco da questa inquadratura si vede ancora la bravura di Montrone ma è bravissimo anche Pino Lorenzo a liberarsi di due avversari con un cross invitante che chiede soltanto di essere spinto in fondo alla rete. Ha bussato due volte nel giro di tre minuti la Pistoiese prima con Catelli su calcio di rigore adesso con Montrone ben imbeccato da Pino Lorenzo e a questo punto è davvero disperata.